Dopo la stretta di mano tra Francesco Totti e Ilari Blasi in tribunale, sembrava che i due ex coniugi volessero mettere da parte le divergenze per concludere rapidamente il divorzio. Tuttavia, la tregua sembra essere durata poco. Secondo il messaggero, Ilari Blasi avrebbe denunciato Totti per aver lasciato la figlia Isabel da sola a casa. La battaglia legale tra i due continua, senza sosta, e Ilari ha denunciato Francesco per abbandono di minore, sostenendo che avesse lasciato la bambina di otto anni da sola a casa. Tuttavia, Totti si è difeso, affermando che Isabel era con la babysitter e che gli agenti intervenuti lo avevano confermato. La procura dovrà fare chiarezza sull'accaduto e decidere la veridicità delle accuse. Se l'accusa di abbandono di minore fosse confermata, Totti potrebbe affrontare conseguenze legali. Al contrario, se l'accusa fosse infondata, potrebbe denunciare Blasi per calunnia. La situazione, che coinvolge la terzogenita Isabel, crea tensioni tra i due ex coniugi e la loro famiglia. La decisione della procura sarà fondamentale per risolvere la questione. In ogni caso, questa nuova situazione rende la guerra tra i due ancora più spiacevole. La vicenda tra Blasi e Totti continua a tenere banco, con la piccola Isabel al centro della disputa. La prossima mossa della procura sarà cruciale per stabilire la verità e porre fine a questa situazione complicata che coinvolge la famiglia.